Che cos'è il Milton Model? Il Milton Model è un altro strumento linguistico della programmazione neurolinguistica estremamente importante, in quanto da un lato è un generatore di rapporto e dall'altro lato è anche un generatore di stati e dratti di coscienza quindi è molto utile per applicarlo su se stessi, per indursi in uno stato alfa Su cosa funziona? Funziona sul linguaggio generico Nel senso che se io ti dovessi dire in questo momento tu sei seduto su una comodissima poltrona e magari dico anche blu in realtà questa affermazione è estremamente specifica potrei avere magari la fortuna che tu ti trovi su una comodissima poltrona o su una comodissima sedia, blu e a quel punto tu in qualche maniera ti ritrovi in questa frase che sto dicendo Ma se non è così, cosa succede? Dal certo punto di vista si crea mismatching Cioè questa mia frase non coincide con la tua realtà con la tua percezione, con quello che stai vivendo Quindi se io voglio dire qualcosa che coincida con la tua esperienza dovrei usare delle frasi che sono assolutamente generiche Un esempio di frase generica potrebbe essere questo In questo momento tu mi stai vedendo e mi stai ascoltando Sono sicuramente due affermazioni abbastanza vere Perché probabilmente mi stai guardando in questo momento E probabilmente mi stai anche ascoltando Oppure potrei dire Mentre mi ascolti sei seduto E sicuramente questa è un'altra frase generica Perché non sto dicendo su cosa sei seduto In che posizione sei Quindi è abbastanza generica Quindi da un lato appunto il Milton Molder è un generatore di rubber E' interessante l'applicazione per indursi in state alterati di coscienza Chiaramente quando io lo applico sugli altri dovrò essere estremamente generico Perché io non posso sapere esattamente quello che sta passando nella loro mente Quando invece io lo applico su me stesso Potrò usare il Milton Molder chiaramente in maniera molto più specifica Perché io sono consapevole di quello che sto vivendo Per esempio io in questo momento potrei dirmi delle frasi verificabili Che sono per esempio in questo momento io ho gli occhi chiusi Sto parlando mentre sono seduto Ecco ho detto tre affermazioni verificabili Tu ti stai chiedendo ma cosa serve questa storia delle affermazioni verificabili? Cioè vabbè ok mi stai dicendo qualcosa che magari io dico sì è vero quello che dici O se mi dico delle cose che io in qualche maniera sto testando sulla mia pelle che sono vere Ok ma cosa mi serve? Beh la cosa interessante è che se tu ti dici una serie di affermazioni verificabili 3-4 affermazioni verificabili Dopo posso metterci una guida Cioè posso metterci una frase no o una parolina non verificabile Vorrei chiaramente chiudere questa piccola parte dicendo che si chiama Milton Molder Proprio perché è tratto da Milton Erickson che era un brillante ipnoterapeuta Terapeuta eccezionale e che per primo ha cominciato a notare che era possibile usare il linguaggio In una maniera particolare proprio per creare dei cambiamenti negli altri e creare cambiamenti su se stessi Quindi studia con attenzione questa parte sicuramente ne trarrai dei vantaggi incredibili E mi raccomando pratica, molta pratica Questa è una parte che se la lasci solo teorica in realtà non ti servirà nulla